Siamo nel 2016, su gran parte del territorio nazionale viene effettuata la raccolta differenziata. Sento parlare di avviare ciclo, di economia circolare. Guardate, vieni. Andiamo avanti. Le persone che hanno abbandonato tutto questo materiale si devono vergognare. Sono indignato per questo. Sono indignato per i concetti espressi prima. E' inaccettabile che nel 2016 ancora accadano queste cose. Il cittadino che ha abbandonato il rifiuto. Gli organi preposti che eventualmente non hanno vigilato. Non hanno neanche educato il cittadino. Qui è materiale abbandonato da molto tempo. Presumo che ci sia più avanti anche dell'amianto. Come Movimento 5 Stelle e Fiano Romano ci rivolgeremo agli organi competenti. Perché questi danni ambientali devono finire. Dobbiamo educare il cittadino, vigilare e punire chi sbaglia. Ecco, andiamo qui, forse... Qui addirittura hanno bruciato un qualcosa. Ecco. Presunto amianto. Vesco subito. Ecco. Grazie a tutti